Può essere anche un veicolo di emozioni, un veicolo di, appunto, di mestiere, di lavoro. È più difficile, la tua strada è più difficile, perché l'altra strada è più furba. È più semplice, no? È più semplice, sì, perché l'emotional sul web è tutto. Cioè, tipo, per quanto mi riguarda, visto che il mio pubblico mi conosce da tanti anni, devo dire che loro, io non faccio vedere mai il volto delle mie figlie, ad esempio, pochissimo. Però ci tengono anche ad avere dei contenuti magari un po', capito, a marcord, a vedere auri da bambina, queste cose qua, piace molto, sì. Io seguo questa strada noiosa. Tu fai benissimo, perché tu sei un imprenditore. L'imprenditore fa questo, cioè è giusto, capito? Sarebbe sbagliato. Diciamo, ognuno fa la sua scelta. Ho fatto quattro chiacchiere con questo imprenditore americano che si chiama Grant Cardone, che è arrivato con il suo private jet. Ed è uno sempre che parla di soldi, money, fai video con le banconote. Orca la vascia. Veramente. Che non è esattamente la mia collocazione. Però invece lato strategia sui social è uno molto smart, molto attento. Però ecco, lui invece segue la strada del, ti metto in diretta, ti faccio vedere esattamente ciò che faccio. Tutto, sono qua con le mie figlie, il coso, il jet. Sì, sì, no, ci sono, ci sono. E quindi cavalco un po' quell'onda lì. Però secondo me c'è anche un'onda adesso di ritorno più del naturale, dove invece la comunicazione è anche più, ok, non ti faccio vedere che ho sette Lamborghini dietro, la piscina e le robe. È una comunicazione più naturale, meno filtri, meno photoshoppata, meno instagrammosa. Sì, piace molto quello. C'è anche quell'aspetto lì. E quindi Goofy va al naturale, così, in questa direzione qua. È la direzione naturale, no? Sì, sì. Io ti ho beccata su quello, cioè il motivo per cui mi hai molto incuriosito. Cioè tu mi stai, ma sai che mi, cioè basta, adesso non sai quanti punti hai guadagnato in un secondo. Cioè sai che quando ho detto la parola Goofy ho detto no, io lo amo già. Perché io mi sono lanciata in questa avventura e tra l'altro adesso prima quando mi hai detto che fai un imprenditore mi sono detta, adesso poi gli chiedo anche due dritte, perché per me era veramente, cioè avevo proprio voglia da tanti anni di fare una cosa del genere. E non so, a Londra tra l'altro comunque in Inghilterra c'è molto questo trend anche del naturale, vegano. Brighton è la capitale del gluten free, cosa free. Noi siamo questa roba qua, però molto colorful, molto, 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 cioè molta gioia, capito? Goofy è spensieratezza, gioia e soprattutto verità della vita quotidiana, del fatto che non è mai una passeggiata a ciel sereno, però se la guardi in una maniera ironica. Certo, good vibes. Esatto, good vibes, infatti deriva da good vibes. Lì mi ha incuriosito su quell'iniziativa perché c'è un sacco di gente famosa se ci pensi che dice ok, è brava, fa le sue cose, va bene, però quando tu lanci un'iniziativa imprenditoriale è un'altra cosa, cioè sei, ti metti, capito, sulle spalle la responsabilità di questa cosa, non sai se funziona o non funziona, cioè vai nell'oceano, dici attraversiamo l'oceano e andiamo, no? E quindi ci vogliono le palle per fare una roba così, che è la stessa cosa che ho pensato, non so se siano affini, però quando a un evento che si chiama TechCrunch, a un evento di tecnologia di qualche anno fa, si presentò Jessica Alba. Sì, beh, lei è stata molto inspiring per me, cioè lei con The Honest Company, un bel po' di tempo fa io comunque la seguivo e penso che quello sia un progetto geniale, lei è partita con i pannolini, anche perché lei ha dei bambini e non era felice di ciò che vedeva in giro, eccetera, allora è nata The Honest Company e adesso ovviamente si è declinata in una maniera incredibile anche sul beauty, eccetera. Io ero molto ispirata da questo progetto, ovviamente il nostro è diverso, però è un po' questa cosa qua. Tra l'altro in Italia io sto veramente combattendo per cercare di portare l'e-commerce e questa nuova generazione di… cioè noi siamo nelle farmacie, perché in Italia, sai, le farmacie sono importanti. Chiaro, anche come distribuzione. Sì, è importante per la distribuzione ma anche per la credibilità, perché io vendo integratori e gli integratori devi avere una grande credibilità per far sì che le persone poi mandino giù delle pastiglie, anche se sono completamente naturali, eccetera, però ci vuole una storia, un know-how e quindi le farmacie sono molto importanti per me, ma io voglio veramente spingere tanto sul web e voglio diventare… cioè vorrei che il mio core business diventasse l'e-commerce, sì. Jessica, me la ricordo, a questo evento si presentò, la gente pensava che venisse a fare la comparsata… Eh, certo. …l'attrice di, non so, non la fiamma umana, cosa faceva, la donna invisibile, non so cosa faceva. Sì, sì. E lei, mi ricordo invece, partì con questo speech da start-up classica con il PowerPoint, ecco siamo… e la gente diceva… Che cosa sta facendo? Invece adesso Onest ha raccolto 500 milioni di funding, 500 milioni di investimenti… Sì, sì, una cosa incredibile. Esatto, e quindi hanno avuto vari alti e bassi e adesso hanno ripreso a salire e a me ha molto colpito lei. Eh, molto, infatti è bravissima, è bravissima, ha fatto una cosa molto bella. Io, tra l'altro… E c'è un pannolini nei quadri incorniciati. Sì, ma guarda che sono meravigliosi, hanno delle grafiche incredibili, infatti io, quando ti ho detto che mi ero messa in società con Arzana, è perché io collaboro con loro per questa cosa qua, anche perché quando ho pensato di fare questo progetto, ovviamente se sei solo, tu da solo non ce la puoi fare, devi avere alle spalle della gente che sa e che ha know-how, no? In realtà avrei potuto anche partire da sola, però è molto più difficile. In questa maniera appunto partiamo già con una grande credibilità. I prodotti piacciono tanto, però è una bella battaglia. Adesso siamo proprio nel momento in cui bisogna spingere molto per far conoscere questa realtà. Ma tu questo lo conosci benissimo, questo… L'immagine è molto bella però, cioè è molto divertente, molto… Molto, molto. Poi chiaramente tu hai il vantaggio di poter essere, portare avanti il messaggio. Sì, infatti allora la cosa bella è che partiamo da una base, che il prodotto è eccezionale, ma noi non siamo a good product company, io voglio essere una company che comunica, che diventi come una community per le donne, perché in Italia non facciamo ancora molto squadra, no? Tra di noi, e invece secondo me quando se tu hai un recipiente, un posto dove puoi andare a chiedere come mi devo comportare tutte le mamme, le donne, comunque è bello. E quindi sto cercando anche di creare questa community di consumers, di gente che diventa fan del brand, ma ovviamente che anche del prodotto. Cioè, è un po' un movimento, no? Sì, 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 sì. Dove tu segui, sposi quella filosofia, a quel punto il prodotto è una di queste definizioni. Esatto, è esattamente questa cosa qua. Grazie che mi chiedi di cui, mi sono così contenta. Non mi chiede mai nessuno di Gubb, perché loro vedono in me tutt'altro giustamente, no? Però per me è veramente un bambino questo, io ci sto combattendo molto. Io stavo facendo un video, poi non sono riuscito a registrarlo l'altro giorno, però l'argomento era proprio questo, di come se tu lanci una tua azienda da solo, con i soci, questo è un altro discorso. Però quando lanci una tua iniziativa, c'è proprio questa enorme differenza tra chi lavora per altri, che è come andare in piscina col bagnino, e chi invece lavora, no, e lanci la tua azienda, che invece piglia la zattera e va, ecco, gli squali, cose, e non sai, i cambi. No, poi tra l'altro mi sto confrontando per la prima volta nella mia vita con i numeri, capisci? I numeri che girano, che non girano, il perché, la strategia, tutto quello che sta dietro alla nascita di un brand, ed è incredibile, tu esci dalle assemblee che hai un mal di testa pazzesco, perché io sono sempre solo nella creatività, no? E allora adesso voglio fare anche dei corsi, perché voglio veramente capire bene di marketing, poi anche se conosci perfettamente il marketing e la comunicazione, comunque è sempre un terno all'otto. Però guarda, secondo me è in ogni caso un'ottima esperienza, perché è un po' appunto come lavorare per un media o essere un media, no? Mi conto di dire, lavori per la BBC, oppure dici, no, io creo la BBC, è una cosa completamente diversa, però oggi online lo puoi fare, cioè la cosa pazzesca è che tu magari col seguito che hai a crescere, tu magari hai capito, 15 milioni di follower e sei un media a se stante. Ma infatti sei già un brand a se stante, questa è la cosa bellissima che io dico sempre, quando tutti mi dicono che il futuro è così grigio per le nuove generazioni, io dico non è vero, non è vero, non pensiamo così, è vero, ci sono ovviamente, abbiamo un sacco di problemi, però i ragazzi hanno una possibilità in più rispetto alla nostra generazione, perché si possono inventare, possono creare delle aziende, possono essere furbi, possono essere geniali e fare delle cose. Il web è meraviglioso, io sono molto, una grande fan del web, sì. Peraltro ho visto che su Instagram, ad esempio, non so se hai cambiato, diciamo, anche il tuo ritmo produttivo e la squadra di produzione di contenuti, però io ho visto una, diciamo, una crescita, un miglioramento, forse un'attenzione maggiore, visto vari format, ti ho visto intervistare una diversamente giovane che fa... Sì, adesso quello è proprio il mio progetto con Guvi, anche attraverso il mio di feed, perché ovviamente Guvi è un'azienda, è la mia azienda e ha un suo feed, ha la sua presenza, però ogni tanto io porto anche la mia azienda nel mio feed, perché è anche, c'è molto di mio, no? E attraverso una collaborazione che ho trovato molto interessante, anche un po' innovativa, adesso tu sai che ci si appoggia sempre alle agenzie creative, no? Che sono sacrosante, però la cosa bella è che sono nate delle agenzie creative che hanno però qualcosa di molto potente, che è gli analytics, che sono sul web, che sanno come muoversi e per esempio, non so se tu conosci Frida, Andrea Scotti, è un figlio, esatto, è un mio amico, loro hanno creato, secondo me, una realtà meravigliosa, perché riescono a creare dei contenuti, hanno una produzione interna, una regia, hanno tutto quello che serve per aiutare un nuovo brand a crescere. Allora io ho chiesto loro se avevano voglia di diventare una sorta di partner di Guvi, perché poi loro anche come feel, come filosofia, sono molto molto vicini a Guvi, affini e questo ha veramente dato una spinta incredibile e stiamo creando questi format dove voglio portare delle realtà di donne che vedono la vita con lo sguardo delle good vibes, cioè della Guviness, no? Quindi come questa signora, sì questa signora che ha iniziato a… Ma l'hai vista sul palo lei o no? No, meravigliosa, io l'ho vista, cioè lei a 60 anni non aveva mosso un dito e improvvisamente è diventata una pole dancer, ma ha un fisico che neanche ti immagini, per me è un messaggio per le donne là fuori di dire non è mai tardi per fare qualunque cosa, capito? Poi ho intervistato anche la mia truccatrice che anche lei è una Guvi, una Guvi girl che ha una storia particolare e pian piano stiamo creando dei format per portare la gente a capire la nostra filosofia. In realtà è divertente secondo me anche il tema della comunicazione online perché tu puoi testare anche un sacco di concetti così per capire se è una cosa che funziona e poi in base alle reazioni diciamo ok questo ha preso tantissimo allora magari investo in quella direzione. Sì, 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 è così che funziona anche con ogni post che facciamo, ogni storia, ogni cosa che comunque facciamo sul nostro brand cerchiamo di capire immediatamente se siamo in target, se ha funzionato, è quella la grande novità di queste comunque agenzie, queste realtà che sanno controllare gli analytics e sono sempre H24, ho capito, pronti a capire che cosa funziona e cosa non funziona, prima non si poteva fare. E tu per i tuoi contenuti come ti li gestisci? Da sola. Perché tu sei partita diciamo media tradizionale, no? Sì. Quando è che poi sei sbarcata su Instagram o Facebook o YouTube, non so dove sei partita prima. Grazie a mia figlia che ha 22 anni, mia figlia ha 22 anni, abbiamo solo 19 anni di differenza e tre anni fa mi ha detto mamma adesso hai rotto perché Instagram è troppo importante, comunque è il futuro e tutto. Tu eri fuori totalmente, avevi l'account aperto. Io ero ancora fuori, facevo anche ancora quella che comunque si aggrappava alla tradizione. Ma io sto in televisione. Esatto, sto in televisione, non mi rompete le scatole con queste cose qua che non sono importanti e invece erano effettivamente il futuro forse tre o quattro anni fa e sono contenta di averla seguita perché lei comunque mi ha aperto un mondo. Mi ha aperto un mondo e ho trovato anche uno spazio per servire un pubblico diverso perché ormai ci sono due… il pubblico della tv generalista, cioè dove vivo e lavoro io, che è un pubblico meraviglioso, è molto diverso da quello del web e del digitale. Sono però importanti entrambi perché uno è il futuro e io cerco la conversion, capito? La conversion. Cioè io cerco di portare… Abbontare il conversion rate. Esatto, io cerco la conversion rate anche in questo. Cioè dico, la vera sfida oggi è fare televisione perché alla fine possono dire quello che vogliono, ma i dati… Sì, sì, i numeri ci sono. E i numeri che fa ancora la tv generalista, non fa nessun altro contenuto, cioè comunque se pensi strisciare la notizia, da 31 anni fa 7 milioni ogni sera, quindi è una macchina pazzesca. Il problema è che l'editore, questi grandi editori non hanno ancora captato… Ha fatto quello switch. Quello switch, esatto, non hanno fatto lo switch, però secondo me la grande sfida è diventare creativi in questo senso e cercare un modo per portare il pubblico della piattaforma web a vedere anche la televisione. E quando… quindi tre anni fa sei partita, che cosa hai fatto? No, io ho iniziato, come ti dicevo prima, stavamo chiacchierando del fatto che ognuno ha un modo di approcciare su Instagram o comunque sui social a modo suo. Io sono andata veramente di pancia, ho detto, cerco di capire anche un po' il mio pubblico che cosa desidera da me, però uno ce l'ha un po' un know-how negli anni. E io penso che quello che il mio pubblico desidera davvero è vivere delle emozioni, che sia a teatro o in televisione, quindi ho trasportato questa cosa anche su Instagram. E l'ironia, l'autoironia, l'ironia è molto importante secondo me sui social e comunque veicolare dei bei messaggi, delle emozioni, cerco di fare questo e lo faccio naturalmente. E ti metti lì col tuo cellulare posto? Sì, 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 ma anche quando facciamo queste cose da Pirla, con mia figlia, questi video così li facciamo tutti noi. Ah, e non hai diciamo un team di produzione, video, montaggio? Ancora fino a pochissimo tempo fa, cioè fino a un anno fa ero sola e quello che ho fatto era tutta farina nel mio sacco, nel bene e nel male. E solo Instagram? No, io avevo, ho anche una fan page su Facebook, non sono su Facebook ma ho la official page e Twitter, ho anche Twitter. Adesso Twitter lo sto considerando un po' meno ti devo dire, però per le comunicazioni di un certo tipo è comunque ancora importante da servire anche quel social lì. Invece da un anno a questa parte mi sono portata in barca un ragazzo che si chiama Luca Oldani, che mi dà una mano, quando ad esempio sono a Sanremo e sto lavorando, è importantissimo che vengano fatti dei contenuti mentre lavoro. Anzi, io gli dicevo tu devi twittare e massacrarmi come se fossi io che mi automassacro mentre scendo dalla scalinata di Sanremo, fa ridere se il tuo staff o comunque il tuo team ti prende per il cul, no? Però è vero perché e poi rientra anche nella tua personalità, no? Sì, e lui ha iniziato insieme a me a darmi una mano perché è un lavoro ragazzi, i social sono un lavoro incredibile. Assolutamente. Cioè anche proprio il montaggio, il fatto di fare delle stories eccetera, io continuo a farlo ma mi rendo conto che alla fine il tempo per noi è diventato piccolissimo. Però tu martelli ultimamente su Insta, sei molto… Sì, sì, sì. Unseeker style, cioè nel senso… Fa parte del mestiere ormai. Ma secondo te il motivo per cui riesci adesso a postare comunque tanto contenuto perché storie stai ogni giorno sul pezzo è che hai… Entra adesso nella tua routine giornaliera, è un'abitudine, è un processo ormai in atto dove dici ok, eccomi qua. Ci sono dei giorni in cui prendo il telefono e lo metto veramente via, ma via vuol dire che non devo neanche avere… Capito? Perché ormai abbiamo una sorta di addiction, siamo totalmente a sue fatti e c'è un attimo che sei sempre lì a vedere che cosa succede, però ogni tanto bisogna metterlo da parte e lo faccio. Però normalmente sì, anche quando faccio a casa delle grigliate rendo partecipe tutto il pubblico delle grigliate. Ho visto che hai tirato dentro anche Gerry Scotti che a volte ti guarda come dire volentieri però… Gerry è traumatizzato da sta cosa. È così, non sa cosa sta succedendo. Ma è colpa sua perché lui continuava a dirmi, io voglio un po' dei tuoi followers, vieni qua e fai i quiz con me su Instagram, scusa. È vero, è vero, è vero, è un quiz peraltro che è una persona carina. Cioè con Gerry bisogna fare i quiz, era proprio il momento in cui avevano messo i quiz in Instagram e ho usato Scotti per… Ma lui sarebbe perfetto, quiz su Instagram fatto a Gerry Scotti. Cioè ma ti rendi conto che non ha ancora capito, non riposta neanche, come si fa a ripostare? Dico dai Gerry, e allora adesso lo indottriniamo. E YouTube con il nuovo video che ho visto che all'inizio mi ha lasciato, mi ha colpito, mettiamolo così, e ho detto c'è dietro Jay Axe, lo so Axe, l'ho chiamato… L'hai appena intervistato tra l'altro. C'è qualcosa che mi ricordo, lo so, però ho fatto dei numeri pazzeschi. Sì, allora quella è un'operazione, veramente è un'idea di Jay Axe perché sai che abbiamo collaborato stasera, cioè stasera, non so quando faremo vedere questo contenuto comunque, Oggi andrà in onda il nostro programma, è un musical game show che arriva dalla BBC tra l'altro, è un bellissimo format e Jay Axe è il capo di questo muro umano di giudici. Io ho incontrato questo uomo, questo ragazzo, questo genio per la prima volta nella mia vita, da vent'anni che siamo in giro, ma neanche per un aperitivo, non ci eravamo mai conosciuti. E ho scoperto uno giustissimo, cioè è veramente bello lavorare con lui, è geniale, ha sempre la battuta pronta, è un papà meraviglioso, proprio sai di quelli con il quale fai team e crei delle cose belle. Quindi un giorno per scherzo mi dice Mish dai c'è una roba che ti manca, sei un po' moscia perché dai ti devo far diventare una trap queen. Sei un po' old style. Sì, un po' troppo old style, io ho detto bello, riuscirai a fare qualunque cosa, ma farmi rappare, cioè proprio lo dico per te, è un rischio, non son capace. Però tu hai fatto, adesso non vuoi dire cazzo. Sì, ho fatto musical, canto, però il rap è sacro, io ho capito che quello è un mondo, attenzione, è entrare in quello. Che non si scherzi. No, 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 è una sacralità, è una, cioè o lo fai bene o non lo fai. E lui è arrivato con questo testo geniale. Ah, lui l'aveva già fatto. L'ha scritto insieme a Pedar questo testo, mi fa allora, dico ok domani in studio. Non ci credo. Mi ha accettato la sfida e mi ha messo accanto Pedar che mi ha proprio fatto vedere come si rappa, cioè come si fa. Tra l'altro il mio è un gangsta rap. Sì, sì, perché sei molto aggressiva, cattiva. Cattiva, incazzata come una mina. E come si rappa? È bellissimo, è come andare in palestra e dare i pugni contro un sacco. Cioè tu esci da lì che sei sollevato, infatti, cioè io non lo volevo fare e poi mi dovevo andare i calci per cacciarmi dallo studio. Per questo che tutti i rapper sono sempre... Perché si sfogano, capito? Si sfogano e possono dire tutto quello che vogliono dire attraverso un linguaggio accettato. E qual è la tecnica per repare rispetto a cantare? No, beh, allora, repare devi essere attentissimo, devi ovviamente avere una ritmica pazzesca, ma poi ho capito che anche le frasi le devi dire in una determinata maniera e anche con un determinato tono e soprattutto le finali le devi segare, ma non devi sembrare un barese, capito? Devi segarle in una maniera giusta. Fammi un esempio, non so. Eh, vabbè, te... Un esempio è, no, com'è che fa? Sono mischere, omicida in serie di tutti questi aiter, cioè tutti questi aiter. Deve essere una roba... Finisce secca lì, la zappi con l'acetta. La zappi con l'acetta, non puoi lasciare spazio per sbrodolare. Ok, ok. No, comunque non è facile. Ma infatti immagino che sia super complicato. Ma il video poi è nato da quella cosa. No, dopo aver fatto la canzone, sa va son dire, bisogna fare anche il video. E abbiamo, mentre stavamo facendo All Together Now, alle dieci di sera, andavamo nelle suite a chiedere agli alberghi di darci gratuitamente le suite per fare questi video. E non sai che cosa è successo, perché a un certo punto eravamo in questo Cinque Stelle bellissimo. Chiediamo al proprietario dell'albergo di farci girare una scena di questo video in una suite. Lui ovviamente mi conosce, sa che sono un ragazza per bene, dice, ma certo, Michelle, che problema c'è? E a un certo punto noi stavamo sbocciando su un tappeto del 1200 con quattro ragazzi con le ciapette che tuercavano. Questo entra, sai, la faccia, era impagabile, la faccia del proprietario dell'albergo. Quando ha visto questa scena, io mezza nuda, che davo le pacche sul culo alle tipe, e lui fa, Michelle, che cosa state facendo? Io, tranquillo, è tutto sotto controllo. E Axe, anche lui, si è un po' spaventato. Mi dice, Michelle, meno, meno. Ma il video però sembra, diciamo, super qualitativo come produzione. Pensa che abbiamo speso veramente, eh? Non ci credo. Te lo giuro. Ma sembra un video da 30. Ma sembra un video di quelli veri, insomma. Eh, sai perché? Perché c'era dietro un team, è sempre quella la chiave. Cioè, gente che ha voglia di fare le cose, prima di tutto che hanno voglia, capito, di sacrificare del tempo, anche magari fino alle 4 del mattino, divertirsi. Secondo, il regista, che è Samuel Pescuma, 21 anni ha. E ha trovato le location, ha chiesto i permessi, l'ha girato e l'ha montato da solo. Quindi uno dice, no, no, un team fantastico. Poi anche tutto il dopo, la programmazione, c'era Alberto Marin che segue Axe anche in tutte le sue cose, quindi super team. E adesso basta, ti lanci nel retto? No, no, è una tanto, ma sei matto? Inizi la carriera con Stomsy, se in Inghilterra c'è Stomsy che è quello che va più di tutti. No, mi piacerebbe una volta fare un'incursione in un concerto di Axe, quello sì. Ma lui ha detto, sì, sì, vieni. Quello certo sarebbe un cameo meraviglioso. Sì, una roba così, però poi basta, non è che adesso a 42 anni mi metto a diventare, divento una trapper. E come è stato preso questo video dai colleghi, dai fan? Da Dio. Perché ha fatto numeri incredibili. La cosa bella è, io avevo un po' paura ovviamente dei rapper veri, capito? Della gente che ne mastica nell'ambiente. O tutti, ovviamente c'è chi ha detto no, dai, ridicola, è ovvio, non puoi mai accontentare tutti. Però il tipo di youtuber che trattano questo tema erano tutti gasati. Ma perché era autoironico, non era una roba in cui ci credo veramente, capito? Cioè l'ho fatta bene, perché avevo un team giusto. Se uno non è stupido lo capisce che è una cosa per giocarci su. Ma di tutte queste cose qual è quella che ti piace di più? Cioè televisione, teatro, cazzeggio andante? A me piace intrattenere. Quindi ti dico, ogni piattaforma, ogni palco ha un fascino incredibile. Il teatro è magia pura, perché tu sai che il pubblico paga un biglietto, ti sceglie, viene lì e ti guarda perché ti ha scelto. E già questo, si apre il sipario e hai una sensazione di condivisione incredibile che nient'altro ti dà, no? Il teatro. La televisione è bellissima perché è un mezzo di comunicazione potentissimo, col quale davvero puoi fare delle cose stupende e immediate e non ti rendi neanche conto, hai una telecamera davanti e sai che magari dall'altra parte ci sono 7 milioni di persone che in quel momento stanno guardando. Quindi è una sensazione molto bella proprio per la comunicazione. E poi è il mio pane, cioè non sputerei mai in questo piatto, nel piatto della televisione. Certo. Quindi non ti so dire che cos'è che mi piace di più, perché alla fine l'intrattenimento per me deve essere a 360 gradi, uno deve sapere intrattenere anche i parenti a casa a Natale. Che è la cosa più difficile. Che è la cosa più difficile perché uno dice a fare striscia a Sanremo, ok, ma se devo cantare una canzoncina a mia madre e al mio marito e a mie figlie mi viene l'ansia, non so te. Negato, totale. Io penso, la cosa incredibile, che sono 20 anni che faccio tutti gli eventi di tecnologia dove sei, non so, il moderatore, devi tenersù, non so, 5 mila persone che sono poi, non sono lì che hanno pagato un biglietto per vedere me, sono lì che hanno pagato un biglietto per sentire della gente parlare dei trend dell'intelligenza artificiale, cioè una roba che dici… Però se hai la passione, se hai interessato… Certo, però diciamo un pubblico business che quindi è molto chiuso… Sì, sì, sono diversi, certo, se entrassi io a rappare mentre tu fai una convention del genere, secondo me… Sono stato spengolo. Però la cosa incredibile è che quindi devi tenerli su, no? Cioè, perché devi intrattenerli, eccetera, eccetera. Quindi tu fai anche delle battute, nel senso che ti metti… Cazzeggio totale, e quindi… Però è chiaro che è più facile per me migliaia di persone rispetto a dieci persone in una stanza. Dieci persone sono un po' come dire… È troppo intimo. Non so, ecco, cosa dire. Perché ti scrutano e ti spogliano, capito? Che ti guardano, ma, e tu dici, no, scusa, sto qua nel mio angolino, non volevo dirla quella cosa, è un po' strano. È vero, è vero, è vero. Parlavo con Serena Autieri. Eh, che è una mia amica, tra l'altro. Bravissima persona. E infatti ha detto… non so, ha detto che sei bravissima, però ha detto non vale, siete amiche, non puoi dire… Ma che carino. Però mi ha colpito vedere lei come si prepara prima di andare in scena. No, ma Serena è una macchina da guerra. Riscaldamento, vocale, tutte le cose. Se tu devi andare e fare qualche cosa a teatro, ho sempre questo dubbio. Numero uno, come fai a memorizzare un'ora e mezza di roba? Quindi questa è la mia domanda in generale. Qual è la tua tecnica di apprendimento? No, ma quella cosa secondo me è genetica, nel senso che io mi sono resa conto, cioè è difficilissimo per me fare altre cose, però memorizzare velocemente un testo è una cosa che mi riesce e non so come mai, non è un talento. Secondo me è una cosa di cervello, di neuroni, cioè nel senso che c'è gente che ha una memoria a lungo termine, gente che ha una memoria a breve termine. Poi il teatro è fatto così, cioè tu memorizzi un testo, ovviamente devi studiare di brutto perché è sempre una diretta e non puoi sbagliare niente e se sbagli te la devi cavare sul palco. E comunque fare appunto il teatro anche come lo fa Serena, che è anche un teatro musicale, è ancora più difficile, perché tu non solo devi memorizzare il testo, devi memorizzare i movimenti abbinati al testo e la musica e il ballo. Quindi io ho una grande passione per il teatro musicale, infatti da voi a Londra ho visto tutti i musical che si possano vedere con mia figlia, perché per me quella è un'arte incredibile e Serena si prepara veramente bene, cioè è meticolosa. E tu come ti prepari? Cioè quanto tempo ti serve per preparare? Dici faccio uno spettacolo a dicembre, quanto tempo ti serve? A dicembre ci vogliono almeno quattro mesi, intanto bisogna costruire uno spettacolo, dipende se è un testo che esiste già o se è un testo che stai scrivendo. Se lo devi scrivere, come mi è successo con l'ultimo tour teatrale che si chiamava Mi scappa da ridere, l'ho scritto da zero con degli autori, Gian Piero Solari come regista, allora ci vuole un anno per la scrittura, un anno, tu ti incontri, come scrivi un libro, ti incontri con i tuoi autori, con il regista, due volte alla settimana, si sta ore e si parla, si scrive, si crea e dopo aver scritto il testo e aver messo giù tutto il progetto devi andare a fare le prove e quello ci metti almeno due o tre mesi, se vuoi fare una cosa fatta bene, prove, prove, prove e poi ci sono le prove col pubblico dove devi testare quali sono le battute che funzionano perché è tutta una questione anche di tempi, no? Cioè la stessa battuta la dici in tre maniere diverse e il pubblico regisce in una maniera diversa, incredibile, è proprio solo tempo. A Brighton, l'ho uscito sempre questo, a Brighton tutti gli standard comedia inglesi vengono a provare gli spettacoli perché Brighton è molto aperta di mentalità, tu paghi il biglietto in realtà per venire a vedere la prova. Il laboratorio. Il laboratorio e lo standard comedia arriva in ciabatta con le sue battute e le legge, cioè le legge lì, no? Sì, sì. E vede, se non ridi. E sono gli analytics, quelli dal vivo, capito? Cioè è la cosa, è la più grande palestra che tu possa fare perché se tu testi tutte le tue cose sul pubblico vero, infatti Fiorello, Rosario, che è un grande, ha sempre lavorato così, cioè lui è sempre andato prima in tutte le piazze d'Italia, in tutti i teatri italiani comunque a testare i suoi spettacoli e poi li ha portati in televisione. Questo è il modo in cui si lavora, secondo me è la miglior maniera perché oggigiorno non è come quando si faceva mille luci che ti davano un mese lo studio e si poteva stare un mese nello studio a provare le cose, non ci sono più budget per fare una cosa del genere. Ho visto Kevin Hart, il comico, il colore. Kevin Hart te lo conosco. A tutto quello passetto con i denti. Che peraltro fa sempre film anche con The Rock. E lui, imprenditore clamoroso, io non lo sapevo, perché sai al solito vedi uno così e dici questo qua, invece quando lo senti parlare ha un impero lui, oggi è un impero mediatico, ha casa di produzione, ha tutte le sue cose, no? E lui ci mette due anni, no? Perché lui, il suo programma è che fa tutte le prove, fa tutti i tour per pulire, 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 fino a arrivare poi ai palazzetti, alle arene quelle gigantesche e poi arrivare a fare il Netflix original quando è perfetto, preciso. E poi gli americani sono i numeri uno in questo film. L'entertainment, cioè loro quello fanno benissimo, il cinema, l'industria americana è pazzesca. Ma il cinema quindi? Cine e panettoni a parte? Eh no, io ti dico, sono sempre dell'avviso che se fai intrattenimento è sempre il progetto che deve essere giusto per te. Ti deve calzare, capito? Quindi se dovesse arrivare un film giusto per il momento, anche per l'immaginario collettivo, eccetera, lo farei. Però non mi metterei adesso, ad esempio, a fare un film drammatico, perché il mio pubblico non capirebbe neanche perché, perché dovresti farlo, capito? Però un film sulla trap dovresti farlo. Sì, un film sulla trap, mi piacerebbe, con Jay Axe, il protagonista. Scioccante, capito? Tu, Eminem e non so. Facciamo un Trainspotting 2.0 dove facciamo tutto, non ti immagini? Che shock. Ma tu, come ispirazione, libri, film, hai qualche cosa in particolare? A me piace guardare moltissimo, in questo momento, come tutti, guardo le serie, eccetera, e io i film me li guardo, io guardo moltissimi film, ho anche letto tanti libri, io non so te se hai tempo di leggere in questo periodo. È molto difficile trovare il tempo per sedersi e leggersi un libro, e a me manca tantissimo, perché io con mia mamma e con mia figlia Aurora, anche se è una millennials, ci passavamo i libri, facevamo comunque le estati a prenderci in giro, perché una era avanti rispetto all'altra, gli diceva il finale, quelle robe lì. Per me leggere è molto importante, solo che in questo periodo, con tutte le cose che stiamo facendo, non ho veramente tempo. Non ce la faccio, perché ho sempre una bambina o un cane da qualche parte, allora dovrei proprio trovare, capito, dovrei mettermi in una camera iperbarica, perché... Io pensa, invece riesco a leggere tanto, ma perché fa parte della mia routine, e poi leggo, io ho solo libri di business, però è roba che mi piace ed è anche più facile da leggere, ma dovrei iniziare anch'io, caro. Infatti Andrea Scotti mi impassa sempre tutti i titoli e le dispense dei libri che devo iniziare a leggere, perché è davvero troppo importante, anche perché va alla velocità della luce, c'è sempre qualcosa di nuovo, qualcosa da imparare. A volte hai anche delle teorie magari interessanti da vedere. Sì, molto. C'è una serie televisiva clamorosa, invece, sei pronta? In inglese? Dai. Killing Eve, la prima e seconda edizione, la seconda edizione è appena uscita. Segnatela, amo, che lo devo assolutamente vedere. Killing Eve è un capolavoro incredibile. Dai. Non dicevo perché Paola ha visto la seconda e ieri voleva spoilerarmi, l'ho detto, no? Killing Eve, sì. Dai, 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 me la guardo, perché sono sempre alla ricerca di serie nuove. Secondo me questo comunque è interessante, perché l'Inghilterra in questo momento ha una serie di serie televisive e si è aperto questo enorme mercato dei contenuti che prima non c'era, cioè anche i contenuti di intrattenimento. Prima avevi solamente alcuni, non so, pensa in Italia, cioè avevi, non so, la Rai, Mediaset, la Sette, finito, no? Cioè, quelli erano gli editori. Oggi invece tu hai, a parte Netflix che sono grossi, tutti si sono buttati sui contenuti e quindi hai Amazon che investe in contenuti, Apple, Facebook, YouTube, più una marea di altra gente. Una piattaforma dopo l'altro. Per cui se uno fa contenuti e sa comunicare, intrattenere, pfff, oggi c'è… Hai veramente la… comunque, ascolta, dammi una mano in Inghilterra con Guvi, visto che tu fai startup. A buona gana? Solo che tu, non so se ti interessa andare con… Con il pannolino in giro, come lo devo fare. No, perché potrebbe essere una roba che è challenging, no? Molto challenging, dal pannolino. Dalla tecnologia al pannolino. Assolutamente. Sei un papà, scusa, mastichi di business brutto. C'è un unico problema che ti dico, che a Brighton la gente è talmente fuori e non c'è talmente giudizio che se tu vai su Lungomare di Brighton, non so, la domenica, tu vedi gente di qualunque… cioè, vedi… l'altro ieri sono passato e c'era uno a prendere il sole vestito da guerre stellari. Ah, bellissimo. Ma è uno, ma ce n'è 50.000, infatti c'è l'hashtag Only in Brighton, perché vedi della gente che dici, ma da dove uscite, no? Bellissimo. Perché se io vado in giro col pannolino non mi nota nessuno lì. E uno c'ha il pannolino. Vabbè, ma ci saranno dei genitori e delle mamme e delle donne che lavorano… Brighton è il posto tuo, perché sono solo coppie giovani con bambini. Perfetto, vabbè, io adesso ti recluto per questa start-up… Tutto Lungomare pieno di pannolini. Per adesso siamo ancora su prodotti skin care, body care, che funziona tantissimo, e integratori sono i nostri best seller. Ok. Poi ci ci metteremo anche… È un mercato comunque enorme, ma difficile. Molto difficile, però pensa che l'Italia in Europa, gli italiani sono i più grandi consumatori di integratori. Io non lo pensavo, pensavo fosse più il Nord Europa. Il Nord Europa sono più abituati e si integrano da tantissimi anni. Qua è un trend adesso, è nuovo e la gente, quasi tutti gli italiani, hanno comunque un integratore in casa. Come fai a vincere, diciamo, la battaglia della credibilità? A prescindere dal dire, ok, sono nelle farmacie, però, ad esempio, mi fa venire in mente che avevo visto Honest qualche anno fa, che ha messo in casa lo sviluppo… All'inizio loro erano partiti e la produzione era esterna. Era esterna, sì. E poi per avere il totale controllo della qualità, la loro metodologia… Hanno potuto permettersi di… Hanno avuto tanti investimenti e a quel punto hanno fatto una produzione interna dicendo noi monitoriamo, non so… Qualunque cosa che facciamo, certo, molto importante. Tu come fai a, diciamo, a lavorare su questo aspetto e staccarti da tutti quelli che invece fanno integratori e c'è di tutto di più? No, 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 per me è stato questo. Io sono partita con l'idea di creare degli integratori che si differenziassero dagli altri integratori, adesso ti dico anche in che maniera, che fossero completamente, completamente vegani, naturali, senza glutine, senza lattosi, eccetera, e efficaci. Quindi quando io ho detto tutte queste cose, quelli di Arzana hanno fatto l'occhio così, hanno detto ma noi non ce la facciamo perché è un minimo anche nella body care, nella skin care, anche per essere comunque, come dire, competitivi sul mercato e per rendere un minimo di chimica e la dobbiamo mettere, ho detto no, perché la sfida è proprio quella di essere completamente naturali. La cosa bella è che la gente, per fortuna, si fida molto della mia esperienza e credimi io questi prodotti li ho testati dal momento in cui stavano nascendo fino ad arrivare alla produzione, spalmi, tutto, ma gli integratori soprattutto, e la persona che mi fa le formule, che è un genio, mi ha regalato tre formule, tre, quattro formule che sul mercato non esistono, uno è una formula per avere gli omega, tutte e tre gli omega insieme, tre, sei e nove, senza mettere dentro le animali, cioè niente pesce, niente merluzzo che rutti tutto il giorno, no, perché gli omega li trovi in farmacia, però sono sempre con l'olio comunque di pesce eccetera, noi abbiamo un olio con dentro tutti gli omega a base di amaranto, adesso ti annoierò, amaranto e canapa e questo olio… Però non vale che tu hai la formula segreta e… No, 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 è una figata, ascolta, però non è che uno ti dice una roba così e ti fidi e allora che cosa ho fatto? Io ho un personal trainer che ha il biotest, non ce l'hanno in tanti il biotest, sai quello con gli elettrodi che ti misurano la massa viscerale, la massa grassa viscerale eccetera, ho fatto un test dopo Natale e avevo la massa grassa viscerale abbastanza alta, nonostante sia magra, ma questo non vuol dire perché se ti mangi il cotechino questo e quest'altro dopo è… e ho cominciato a prendermi questi omega alla mattina come vanno presi, credimi, io ho fatto vedere, dopo due settimane ero a massa grassa viscerale a zero, quindi contro il colesterolo eccetera. Io le cose mie, le testo, quindi quando io al pubblico faccio le stories e gli dico ragazzi questo qua è un drenante che spacca, giustamente ci credono perché sanno che l'ho testato su di me, capito? E poi io ho delle bambine, una famiglia e sentivo l'esigenza di creare un prodotto e dei prodotti che potessero essere inclusivi, mamma, papà e bambino, perché uno va al supermercato e si deve prendere lo shampoo per se stesso, lo shampoo e non ce ne sono tanti. Non parlarmi di quante volte devo prendere lo shampoo ogni volta. Esatto, però il fatto di avere un prodotto che vada bene per la mamma che lavora e va in palestra, ma poi anche di conseguenza il bambino è una figata. Per cui tu, diciamo, lato qualità del prodotto lavori sul fatto che oltre a testarlo tu te stessa e quindi sei il tuo guinea pig, sei la tua cavia. La cavia di me stessa, anche con un'azienda che lavora da 100 anni. Lavori con un'azienda che ha quell'esperienza lì e cerchi di avere degli standard. Ragazzi loro sono in farmacia con tutti i prodotti da veramente 100 anni e hanno una credibilità proprio nei farmacisti italiani che sono una categoria giustamente molto attenta anche di medici, di gente che non te lo comprano un prodotto se non sanno esattamente che sia perfetto per le persone, anche con delle formule totalmente naturali, perché adesso in farmacia trovi tanti prodotti naturali, però vogliono essere certi e sono tutti molto molto contenti del prodotto e la gente mi scrive veramente, cioè ricomprano gli integratori, poi vabbè dopo magari la taglierai perché ti annoia, però ti dico un'altra cosa di credibilità. Scusami, questo secondo me è l'aspetto fondamentale perché in realtà tu puoi convincere la prima volta un sacco di gente, però poi il tuo business non è che uno lo compra una volta, è che compra No, noi vendiamo degli integratori per il preciclo e il post ciclo, cioè abbiamo fatto uno studio, che lo fanno in pochissimi, gli integratori tradizionali non ce l'hanno, dello stato ormonale della donna. Una donna cambia tantissimo durante il proprio ciclo, ok? Perché il ciclo non sono i 4-5 giorni di mestruazione, il ciclo è tutto il mese, scusami se ti annoio questa cosa, ma la figata dell'integratore che tiene conto del ciclo mestruale è che noi se ci integriamo le prime due settimane con un integratore che ci tiene su, durante l'ovulazione cambiamo tantissimo, gli integratori non tengono conto di questo aspetto, noi invece abbiamo delle formule che tengono conto in modo naturale del tuo cambiamento e ti aiutano a non avere mal di pancia, a non soffrire, a non star male, a non avere il bellissimo umore che ti cambia, ad esempio non solo la tua compagna. È un impatto fenomenale anche per chi vi sta di fianco, questo è il beneficio che io venderei all'esterno, lo venderei, io non lo venderei alle donne. Perché noi siamo veramente, cioè io lo ammetto, quando sono in preciclo stammi alla larga perché veramente metto in discussione tutta la mia esistenza, capito? Io lo venderei agli uomini, se tu gli dici, uomini, volete che la vostra dolce metà sia sempre serena, eccolo qua. Cioè noi, io corro subito, capito? Questo ad esempio è uno dei nostri integratori, è uno dei nostri best seller e lo ricomprano in continuazione. Lo vendete già anche in una formula tipo subscription, abbonamento, perché io ultimamente sto prendendo una roba verde, questo mi fa capire il mio livello di approfondimento, però è tipo, ho visto insomma una serie di, ho fatto un po' di approfondimento e ho detto probabilmente mi mancano un po' di vitamine A, B, C, D, F, G. E che cosa stai atleti, diciamo come backup per non ammalarsi, infatti ragazzi avete visto che non sono malato da un tot. Con dentro anche aminoacidi e tutto, con dentro anche proteine aminoacidi. Ci sono tipo 75 cose, ti manderò la foto di sto roba. E mandamelo, mi interessa. E loro lo vendono in abbonamento, quindi tu paghi ogni mese, ti arriva questa roba, la busta a casa, tu ogni giorno ti fai il tuo cucchiaino e devo dire non sono più malato, miracolo, non so. Perché ho fatto gli ultimi mesi che ero qua e mi dicevano ogni volta, ero sempre malato. E tu ti sei fatto un abbonamento. L'abbonamento è una bellissima cosa. Può essere un buon modello da testare. Sì, sì, molto. Perché a quel punto hai rientrate ricorrenti. Ti arriva sempre, sì. Adesso noi essendo una start-up ovviamente abbiamo, cerchiamo anche di capire chi, come sono i riordini e i riordini sono molto buoni. Ovviamente se tu sei una start-up e hai ad esempio degli integratori che devono durare un mese, devi aspettare un attimo per vedere chi te lo ricompra, poi non te lo ricompra subito. Ma i dati sono veramente molto, molto interessanti e siamo molto contenti perché abbiamo un trend estremamente positivo e stiamo quasi già rientrando dall'investimento. Quindi sta andando bene. Ma non come vorrei io. Quindi adesso bisogna lavorare bene. Nell'operatività quanto sei realisticamente dentro nel day by day? Day by day. Day by day. Cioè io sono up to date su tutto quello che succede, su tutti i dati, tutte le vendite mi arrivano mail quotidianamente perché io devo capire anche in base ad esempio alle mie stories eccetera come la conversion. E la conversion è molto alta nel momento in cui ad esempio io mi spongo in prima persona. Certo, è ovvio che quella è una grossa spinta. Rispondi al customer care ogni tanto? Ho iniziato, all'inizio ho fatto così e mi hanno saccagnato. Arzana, ma non farlo più. Io dico come? Questa è la mia azienda. No, perché dobbiamo farlo noi col nostro esperto, col nostro medico ed è giusto. Perché io non sono un medico. Quando una donna mi chiede, io sono in gravidanza, posso prendermi questo integratore? Io giustamente, ma quello da subito dico ragazze, chiedete il vostro medico, il vostro ginecologo perché ovviamente anche se è completamente naturale bisogna avere grande. Però diciamo come trovata di marketing a volte se uno chiama e dice c'è un problema con un prodotto. Chi ci sta guardando sappiate che io leggo tutti i vostri commenti perché comunque ovviamente sono amministratore anche del feed di Guvi e di tutti i nostri social e ogni tanto lo vedete rispondo e quando rispondo sono io. Sei proprio tu in prima persona. Un'altra cosa carina sarebbe tipo la VIP Delivery che va molto di moda. In Inghilterra c'è un Fatboy Slim, te lo ricordi? Sì. Insomma, storico. E lui ha fatto questo progetto Deliveroo. No, Deliverave. Ah, perché qua c'è Deliveroo. No, no, con Deliveroo ha fatto il progetto Deliverave dove tu praticamente ordini la pizza e arriva Fatboy Slim e ti fa rave a casa. Ah, e quanto costa? Ma cioè, non so, è una trovata così di marketing. Vabbè, ma è impossibile, dai, non ci credo. Cioè, veramente l'ha fatto. Ma tre. Ah, ok, tre. È una roba così, no? È come quando fai con Amazon per i libri, fai il VIP Delivery dove tu compri il libro e l'autore ti porta il libro a casa, no? È una trovata. Però se io ordinassi il tuo prodotto e tu arrivi a casa, no? Quella è ovviamente… Sì, sì, sì. No, quella è molto interessante. Un'altra cosa che voglio fare e sto facendo, siamo già quasi pronti, è creare delle ambassador. Tutte le mamme della scuola delle mie figlie, tutte le donne che hanno voglia di essere le ambassador di Guvi potranno ovviamente ricevere in prodotti con il 20% di sconto se mi mandano in giro dei coupon per incentivare le persone ad acquistare questo, o comunque far conoscere il prodotto. Coupon ovviamente a forma… Sono dei coupon che loro… A forma di pannolino. Sì, bravo. Con un codice che loro possono dare in giro e ogni volta che loro riescono a vendere o comunque far ordinare dei prodotti, a loro arriva dei punti che attraverso questi punti possono avere degli sconti incredibili. Il mercato è solo italiano? No, no, è internazionale. È internazionale e ovviamente noi stiamo lavorando con le farmacie, siamo in Italia, in Svizzera e adesso abbiamo iniziato anche un po' in Germania perché è in Austria, ci stanno chiedendo molto i prodotti. Comunque noi siamo internazionali. È chiaro che per ora ho il desiderio di performare bene in Italia e partire alla grande qui, perché adesso calcola che sono 4-5 mesi. Infatti io mi ricordo a poco, è partito appena nato. Nuovissimi. Sì, 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 sì. È un bel cinema da fare perché poi anche immagino le regolamentazioni e le leggi sono totalmente diverse. Di quelli integratori è incredibile, sì. Stati Uniti, Europa… Sì, sì, sì. Ecco, gli Stati Uniti non li posso servire per adesso perché bisogna fare un permesso. Stiamo chiedendo un permesso ed è molto lungo perché hanno proprio… ci sono dei permessi che devi chiedere. Anche in Svizzera, in Svizzera ci siamo già riusciti e pian piano ci stiamo muovendo così perché sì, ma anche per vendere integratori in determinati negozi, catene, loro devono aver permesso di poterli vendere. Wow, wow. E sei soddisfatta di questa immersione? Tantissimo, tantissimo. Mi scoppio la testa, ma sono molto soddisfatta. Da quando hai lanciato questa iniziativa? Che poi è incredibile perché è una start-up, magari quattro mesi, sembrano dieci anni, no? Perché uno… No, guarda, ci metti dentro… È un frullo, frullatore continuo. Sì, sì, sì. Ieri sono andata a fare un'assemblea, abbiamo guardato tutti i numeri ed è stato veramente molto, molto challenging. Anche tante volte è frustrante e poi anche… poi vedi i numeri che girano perché hai fatto la cosa giusta e ti gasi, no? Quindi è veramente un bel percorso. E da quando hai iniziato ti senti un po' cambiata rispetto anche alle attività che tu fai… Sì, molto. Diciamo da dipendente o da… non da dipendente, però se lavori per un programma chiaramente non sei tu il boss, il capo totale. Allora, il nostro mestiere è particolare. L'entertainer è un brand, è un brand, cioè il mio nome è un brand, perché ovviamente… però è vero che nel momento in cui tu presti il tuo brand a un editore, stai lavorando per quell'editore. Quindi io ho sempre avuto un capo… Certo. In qualche modo, no? Che decide, se mandarti in onda o non mandarti in onda. Però è molto bello perché è come se fosse una seconda fase della mia vita dove inizio a comprendere tanti meccanismi, tanti meccanismi che hanno a che fare con l'imprenditoria e a capire anche come voglio spingere il mio programma, qual è il budget, quale investimento fare. È molto bello, però non lo puoi fare a 20 anni, non lo puoi fare a 30 anni, lo puoi fare… perché dipende anche a che direzione prendi. Se tu a 20 anni sei già un imprenditore o comunque hai quella direzione va bene, ma se fai l'entertainer o comunque fai televisione, sei nella creatività, è molto difficile mettere dentro anche quell'aspetto, no? Sì, sì. Ci arrivi dopo. Ci arrivi dopo perché è un'esigenza, un'esigenza di capire le cose, cioè hai la curiosità di capire che cosa succede dietro a tutta questa macchina infernale, meravigliosa. Quello che cambierà poi sarà anche il tuo peso, diciamo, contrattuale nei confronti di un editore, nei confronti di uno che ti vuole per un film o chiunque sia, nel momento in cui la tua presenza social inizia a crescere sempre di più, se ci pensino perché… Allora, noi abbiamo… quelli degli anni 90 siamo un po' diversi… A quel punto sei anche un media che promuove la trasmissione, promuove il film. Sì, anche se non ne tengono ancora conto, cioè ne tengono conto… Non ne vogliono per una cosa. No, gli sponsor sì, tantissimo. Gli sponsor ovviamente, sai, ti reclutano per un contratto e tengono molto conto dei social. È diverso se hai 20 milioni di fan veri o uno, insomma, è un peso diverso. Loro lo… ormai lo pretendono nel contratto, no? Anche il post, eccetera. Se tu fai un megacontratto, una volta non era così. Chi ha fatto comunque il mio mestiere già negli anni… fine anni 80, anni 90 è comunque una cosa sé, nel senso che tipo il mio editore, col quale io ho costruito una carriera e anche un rapporto, no? A livello contrattuale che cresce comunque in base anche a quello che tu fai, ai numeri che porti. Lui, quell'editore lì, non tiene ancora conto di quell'aspetto perché c'è un rapporto… Datato. Datato, ecco. Quindi è anche giusto che non ne tenga conto perché lì è l'editore che dice tu mi fai una trasmissione, porti tot, punti in più o comunque tutta una questione di numeri, ma non ne tengono ancora conto. I sponsor sì. Come li vivi i numeri? Quando fai un programma e dici no, sto giro ieri è andato di merda. Eh, non è una roba facile, nel senso che anche quello è un percorso, cioè devi imparare a perdere, devi imparare a capire che… innanzitutto bisogna essere fieri del proprio prodotto, cioè tu fai una trasmissione ad esempio All Together Now, adesso che abbiamo fatto con Max, forse è la prima volta dove io sono completamente convinta che è proprio un prodotto pazzesco, cioè io so che sto consegnando al pubblico una cosa di qualità perché c'è dietro una macchina incredibile anche a livello di audio, tanta musica, fatto bene, prodotto bene, quindi io sono contenta di quello che sto per portare, per mandare in onda. Questo non vuol dire che vinceremo perché abbiamo contro Montalbano, perché comunque il gusto del pubblico non si riesce mai a captare, non si capisce mai veramente perché il pubblico segue una trasmissione e perché non la segue. Ci sono degli eventi eccezionali dove comunque il pubblico come Sanremo, dove non ce n'è, sono appuntamenti, striscia, sono appuntamenti dove un giorno magari perdi un punto, però... Ma come funziona lì? Cioè ti chiama l'editore e dice, miscia ieri non siamo andati bene, oppure dice, ah ieri abbiamo spaccato, oppure è una cosa... No, allora dipende perché loro si fanno le loro strategie, esattamente come fai tu, no? Con i tuoi numeri, cioè se tu hai un prodotto, ovviamente Publitalia ha venduto molto bene la pubblicità di questo prodotto, le attese sono molto... le attese sono alte, cercano di... e allora si fanno un'idea, dicono io voglio portare a casa il 16% per questo programma e sono contento, questo non vuol dire che sia un successo, ma col 16 soddisfo... È il minimo sindacale. Ok, per dire, adesso non è l'esempio nostro, no? Col 16, 17 sono contento, poi magari fai il 22, allora si balla la samba, eh, a media 7. Se invece fai il 14, il 15, non si perdono d'animo, ma dicono, va bene, si può far meglio, vediamo... E ti è mai capitato di fare una roba che ha flopato clamorosamente e hanno detto, basta che viviamo qua? Certamente, in 23 anni di percorso mi è capitato, ho fatto delle robe tipo... anche dei film! Mi è venuto in mente Alex Lariete, no, Alex Lariete con Alberto Tomba che ormai è un cult qua in Italia, in pratica noi, Alberto aveva appena finito di sciare, io avevo 20 anni appena compiuti, mi chiama Cecchi Gori, mito, Alberto Tomba, mito, Damiano Damiani che aveva fatto la piovra, mito, dico io lo faccio, sto film bellissimo, è diventato un film comico praticamente, ma non era volutamente comico? No, no, l'hanno visto mia zia, mia nonna e altri quattro gatti, però oggi è cult, cioè ogni tanto lo vai a rivedere per farti due risate, quello ad esempio è stato un flop clamoroso, però di quelli che ti arricchiscono, non so come dire, perché innanzitutto ho conosciuto una persona meravigliosa che è Alberto, che è un ragazzo, ancora oggi è un ragazzo meraviglioso, e poi capisci tante cose dai flop, anche in televisione, capisci quello che non devi più fare, quello che invece vuoi fare, quindi va bene, se ti rialzi va bene. Certo, è così, in fondo lanciare un'azienda è la stessa cosa, è un continuo capito, provi, sbagli, riparti, cambi. Poi comunque bisogna metterlo in conto, l'importante è che tu stai consegnando un buon prodotto, è che ci credi, perché se ci credi il pubblico è contento, se invece tu stai facendo una cosa a cui non credi, non la sposi, a casa non li freghi. Michelle, grazie. Grazie a te. Sai che sarei andata avanti di povera a chiacchierare con te, veramente. Ti hanno fatto segno così? Abbiamo visto, siamo a quattro minuti in ritardo.